Ma qui spariscono i tweet, ma noi non ci arrendiamo. Il parlamentare europeo può fare le leggi? No, non le può fare. Il Parlamento europeo è l'unico Parlamento della storia che non può fare le leggi. Le leggi in Europa le fa la Commissione, sono autocrati, non elette da nessuno e le loro leggi vagono per tutti. Allora, il Parlamento europeo può contestarle? Beh, sì, ma nella realtà no, perché il procedimento è complessissimo. Deve prima passare per una Commissione del Parlamento, poi deve avere l'assenso della conferenza dei Presidenti di Commissione, poi deve avere l'assenso del 55% del Consiglio europeo oppure della maggioranza assoluta dei parlamentari europei. Ma la cosa ancora più ridicola è che se il parlamentare europeo chiede alla Commissione di vedere una legge che la Commissione sta facendo, la Commissione può dire no, non te la faccio vedere e punto. Allora, può il parlamentare europeo bocciare il Presidente della Commissione e tutta la Commissione si dice di sì? Nella realtà no, perché la Commissione e il Presidente si ripresentano, il parlamentare li riboccia, a questo punto c'è una crisi costituzionale, chi la risolve è la Corte europea di giustizia, che nessuno di noi elege e fa quello che gli pare. Ma soprattutto la cosa più odiosa di questa Europa sono i famosi trattati, soprattutto quelli economici, sovranazionali. Allora può il parlamentare europeo cambiare questi trattati, ma neanche per sogno. La procedura per cambiare i trattati europei è più difficile della fisica teorica, e non sto scherzando, sono migliaia di pagine, migliaia di codicilli. In realtà chi può agire è solamente il Consiglio europeo, dove fra l'altro un solo Stato può porre il veto. La procedura è assolutamente impossibile. Questo per dirvi che a Lisbona, cioè che ha fatto il trattato di Lisbona che governa l'Europa, non erano dei fessi. I fessi sono quelli che in Italia vi raccontano che vincendo in Europa si può cambiare tutto, e non è assolutamente vero.